All'aeroporto di Fano questo fine settimana i campionati italiani di paracadutismo, ecco che cosa potremo vedere? Anche quest'anno la scuola fanese di paracadutismo, la S.D. Alimar, che ospiterà i campionati italiani 2017, discipline di lavoro relativo e free fly, quindi le squadre che fanno le figure associate in aria e chi si muove a 360 gradi, testa in giù e testa in su, nei 40 secondi di tempo che hanno per realizzare il maggior numero di punti possibili. Sono 97 gli atleti che si sfideranno nei cieli, divisi in varie categorie, novità di quest'anno sono due spazi dedicate ai giovani, rispettivamente appunto nel lavoro relativo e nel free fly, così da avvicinare alla competizione anche chi non ha possibilità di praticarle a livello continuativo, diciamo, o quasi professionale. Aspettiamo sfide e divertimento, come sempre, sicurezza e siamo contenti di essere diventati nel tempo un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale. La scuola fanese ha già organizzato i campionati nel 2011, 2012, 2014, quindi in poco tempo siamo di nuovo al centro di questo sport che comunque fa parte della vita di una comunità di sportivi e praticanti a livello italiano. Invece quando e dove? A Fano, dal 25 al 27 di agosto in aeroporto, presso la scuola di paracadutismo, l'accesso è pubblico dall'alba al tramonto. Venerdì, sabato e domenica si può accedere liberamente e assistere ai lanci dai maxi schermo che sono stati predisposti sulla superficie.